Campi bombardati, strade allagate e smottamenti. Il maltempo annunciato ha colpito le marche durante la notte. Una violenta grandinata si è abbattuta nelle zone interne delle province di Macerata e Fermo, risparmiata a quella di Pesero Urbino. In azione i vigili del fuoco impegnati in numerosi interventi. Le richieste sono state soprattutto per danni a lucernari e tetti di abitazioni. I pompieri hanno soccorso diversi automobilisti e rimosso alberi e rami caduti. Per liberare le strade dalla Grandine è stato necessario l'intervento degli spazzaneve. La statale 77 della Val di Chienti, diventata un manto bianco di ghiaccio, è stata chiusa in entrambe le direzioni, tra gli svincoli di Corridonia e Morrovalle. Sul posto il personale dell'ANAS per le operazioni di pulizia e ripristinare la circolazione. Pesanti le ripercussioni anche a Montegiorgio, Montelparo e Mont-San Pietro Morico nel Fermano, dove il sindaco Romina Gualtieri ha aperto il centro operativo comunale per far fronte all'emergenza. Infatti in alcuni punti della città si è accumulato quasi mezzo metro di Grandine. Ad Ancone invece sono stati una decina gli interventi dei vigili del fuoco per piante cadute in strada, grondaie e cammini pericolanti. Nella frazione di Angeli un cedro è stato colpito da un fulmine e i rami sono finiti lungo via Roma, allagati anche diversi locali interrati. Preoccupata col diretti che lancia l'allarme, la suicida prima e ora la Grandine si legge in una nota, il maltempo ha provocato danni ingenti. La perturbazione in alcuni casi ha azzerato addirittura il lavoro di un anno, come nel Maceratese, dove molti campi di grano sono stati letteralmente rasi al suolo. A farne le spese sono state vigne e cereali, per non parlare della frutta, proprio agli inizi della raccolta e del boom di consumi della bella stagione. L'associazione di categoria ha iniziato la conta dei danni.